amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi volevo fare una puntata breve specificando un argomento che tante volte viene dimenticato o non viene preso adeguatamente in considerazione soprattutto se i vari clienti hanno dei problemi con alcuni componenti meccanici e portano le vetture a farle riparare in assistenza ufficiale cioè a meno che la macchina non sia ancora in garanzia in quel caso diciamo che la riparazione viene fatta a carico della casa ma nel momento in cui la macchina esce dalla garanzia ci sono determinati componenti che con l'usura del tempo dei chilometri dell'utilizzo si possono rompere c'è una grossissima differenza tra la metodologia che i concessionari adottano perché loro hanno proprio dei tabulati delle schede di lavoro e delle ma questo vale per tutti i concessionari non è che uno agisce in una maniera e uno agisce in un'altra tutti quanti quando si trovano ad avere un componente che ha dei problemi la cosa che loro fanno è lo sostituiamo viene preso nuovo o in alcuni casi alcuni concessionari ce li hanno di rotazione quindi viene preso il componente nuovo o in questo caso rivisto e rimandato dalla casa costruttrice avendolo poi riequilibrato e rimesso a posto montato sulla macchina con dei costi che chiaramente si possono ridurre quindi quello che è lo scopo di questa di questa puntata è descrivere il fatto che non per tutti i componenti ovviamente però per una buona parte di componenti meccanici si può adottare il sistema di revisionare il componente cioè di riportare il componente nuovo poi in alcuni casi e dopo parliamo ad esempio in una maniera specifica della turbina possiamo proporre al cliente degli step diversi nel momento in cui viene revisionato si può aggiungere oltre alla revisione determinati corregimenti per migliorare anche le prestazioni grosso modo io qua ho messo due componenti ma ce ne sono molti altri parliamo di quelli che non sono qua che sono appunto noi possiamo revisionare scatole guida possiamo revisionare alberi di trasmissione ci sono componenti possiamo revisionare i cambi possiamo revisionare i cambi automatici cambi meccanici quindi tutti i componenti che in altre diciamo in altre sedi in altre occasioni raramente vengono riparati ma vengono proprio cambiati parliamo dell'impianto frenante ad esempio le pinze dei freni dopo un determinato chilometraggio ovviamente subiscono un'usura per cui la parte diciamo che riguarda i pistoncini che sono all'interno questa è una pinza è di una macchina storia questa in una lancia flavia per dire vabbè ma al di là di questo può essere una qualunque pinza il funzionamento dei pistoncini che ovviamente vengono spinti dall'olio che viene generato da una pressione che parte dalla pompa dopo tanti chilometri si bloccano la polvere cioè il funzionamento della pinza diventa problematico fino ad arrivare addirittura al bloccaggio noi abbiamo avuto una una golf settimana scorsa in officina abbiamo dovuto fare revisionare tutte quattro le pinze di cui una posteriore era completamente bloccata cioè la macchina ci è arrivata sul carroattrezzi perché una ruota non non girava più da tanto che si era usurato il pistoncino si era proprio bloccato si era incastrato e qui abbiamo dovuto appunto revisionare completamente le pinze come abbiamo fatto in questo caso vengono sabbiate vengono aperte normalmente se non è una cosa grave vengono cambiate le guarnizioni viene rivisto quello che è il pistoncino e lo scorrimento se il pistoncino è rovinato ovviamente va cambiato anche il pistoncino come in questo caso queste pinze qua che hanno tanti anni abbiamo dovuto cambiare praticamente tutti i pistoncini perché addirittura arrugginiti la macchina è rimasta ferma per tanto tempo e probabilmente nonostante che abbiano comunque dell'olio all'interno l'umidità ha fatto sì che ha corroso proprio il pistoncino quindi era inutile andare a fare un lavoro parziale abbiamo dovuto revisionare in maniera completa tutte e quattro le pinze che fra l'altro anche volendo le comprare nuove non si potevano più comprare perché sono di una macchina che avrà 50 anni per dire queste sono ovviamente le tubazioni che vengono fornite nuove dove scorre l'olio dei freni quindi un componente di questo genere noi lo possiamo riportare tranquillamente nuovo se io dovessi prendere non di questa macchina che come ripeto non c'è una comparativa come prezzo del del nuovo ma se dovessi prendere una pinza recente di una non so una giulietta una golf quello che vogliamo il costo della revisione più o meno un quinto un quarto di quello che può essere il costo dell'assituzione della pinza una volta che io l'ho revisionata la pinza ritorna perfettamente nuova cioè la parte di metallo che sia nuova o vecchia importa relativamente quello che cambia è la parte idraulica e lo scorrimento corretto dei pistoli all'interno questo è giusto per avere un metro di paragone se entriamo nell'ambito delle turbine ancora peggio nel senso che le turbine anche in quel caso hanno una come dire una un deterioramento molto più frequente rispetto al meno a noi capitano tantissime vetture con delle turbine ormai alla frutta come si sol dire causate da un utilizzo di un olio sbagliato piuttosto che una manutenzione non corretta morale dalla favola oppure un fappe intasato che ha creato appunto problematiche sulle sulle bronzine in questo caso la turbina presenta determinati segnali cioè quando la turbina comincia a fischiare comincia a fare un po' di fumo nero le prestazioni chiaramente tendono a decadere è arrivato il momento di mettere le mani sul turbo normalmente questi tipi di problemi succedono dai 100 mila chilometri in su poi abbiamo visto alcune turbine anche con chilometraggi sotto i 100 mila comunque generalmente dai 120 150 mila chilometri anche a livello preventivo mettere le mani sul turbo riportarlo nuovo sicuramente male non fa in questo caso questo ad esempio è una turbina di una mercedes che è stata completamente revisionata fra l'altro questa è di quelle più recenti con l'attuatore elettronico che è uno dei pezzi più delicati che spesso questo va a sostituire la wastegate meccanica pneumatica e tante volte qua dentro c'è una scheda elettronica che si brucia questa basta cambiarla si cambia la scheda elettronica il funzionamento ritorna perfettamente ritorna perfetto quello che noi proponiamo sono sostanzialmente sulle turbine tre tipi diversi di lavorazione il primo è la revisione completa quindi questa era una turbina usata adesso è stato anche esteticamente se vogliamo ritorna nuova anche nella parte esterna nonostante sia usata quello che viene cambiato è la parte centrale qua al coreassi qui ci sono appunto il punto d'ingresso dell'olio qua ho tirato fuori un come dire un esempio delle di quello che è di quelle che sono le bronzine sulle quali qua dentro viene passa l'olio che va a lubrificare le bronzine teniamo conto che queste queste turbine hanno dei regimi di rotazione che sono altissimi cioè parliamo di decine di migliaia di giri al minuto quindi non tanto l'usura ma quanto un calore che si sviluppa il calore che diciamo emerge dalla turbina è dato dal fatto primo dal passaggio dei gas iscaico che ovviamente hanno un determinato punto calorico e secondo perché chiaramente il fatto di girare un numero di giri così elevato crea calore quelle che poi i punti che si deteriorano sono sostanzialmente le bronzine che di solito per una questione di mancata lubrificazione si grippano come si suol dire in gergo piuttosto che le giranti questa è la girante di scarico e questa qua è la girante di aspirazione ecco una delle modifiche la seconda modifica che noi possiamo garantire è quella di mettere un kit di lubrificazione maggiorato per cui mettiamo delle bronzine fatte in una maniera diversa e allarghiamo i fori dove viene assorbito l'olio a cascata viene assorbito l'olio che va a lubrificare le bronzine la seconda cosa è quella di modificare di sostituire non modificare le giranti in maniera particolare la girante di aspirazione che è questa che normalmente è in acciaio viene sostituita con una girante in avion quindi molto più leggera fatta con un numero di pale diverso una conformazione delle pale diverse il fatto di essere più leggera ha molto meno inerzia e quindi la macchina ha una progressione una spinta che con la girante di serie in acciaio chiaramente non ha la girante di scarico invece deve essere molto più resistente perché se mettessi lo stesso materiale si squaglia dopo la prima accensione quindi il materiale si chiama inconel e deve garantire ovviamente il girante di scarico è questa deve garantire la sopportazione di un calore come dicevo che arriva anche a 700 800 900 gradi se voi provate a vedere fate una tirata magari di sera aprite il cofano della macchina vedete che la chioccia il carter caldo che è questo questo è il carter freddo all'aspirazione questo è lo scarico il carter caldo diventa incandescente perché ovviamente raggiunge delle temperature che sono veramente notevoli quindi questo è il secondo step il terzo step è quello di smontare il carter di aspirazione tornire la parte diciamo dove alloggia la girante di aspirazione creare una volumetria quindi di aria maggiore all'interno del carter e in questo caso si ottiene anche un incremento prestazionale che ovviamente deve essere adeguato poi con la parte elettronica si ottiene un incremento prestazionale differente da quello di avere una turbina stock quindi in questo caso siamo partiti da una normale riparazione con due opzioni di miglioramento diverse a seconda di quelle che sono i desideri del cliente a seconda di quelle che sono le finalità del cliente quindi io direi che anche in questo caso abbiamo fatto un escursus generale soffermandosi in maniera particolare sulle pinze dei freni piuttosto che sulle turbine però come dicevo ci sono tanti componenti dove noi possiamo intervenire e riportarli a piena efficienza adesso abbiamo fatto recentemente una riequilibratura di un albero di trasmissione anche in questo caso il costo di un albero di trasmissione di una macchina fuoristrada ha un costo iperbolico la ribilanciatura dell'albero il rapporto fra la revisione e il costo da nuovo è ancora superiore al discorso delle pinze siamo al rapporto di 1 a 5 1 a 7 per dire perché gli alberi di trasmissione hanno un costo ancora molto superiore rispetto alla singola pinza comunque per qualunque informazione ci potete contattare come al solito allo 027383175 sono sempre a disposizione per qualunque genere di informazione vi chiediamo di consultare il sito www.1milagiri.it dove troverete più di 3600 schede vettura di un po tutti i lavori che abbiamo fatto da dieci anni a questa parte nonostante abbiamo perso i precedenti 20 perché non avevamo messo in pista questo sistema dove ogni macchina per ogni macchina viene creata una scheda comunque diciamo un numero consistente di schede ci sono ed è difficilmente reperibile per gente che lavora in questo settore e lì vi potete fare una bella cultura vi chiediamo di cliccare sulla campanella ed iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima grazie a tutti